la maggior ragione secondo me la partita di stasera ci deve dare ancora più forza e incazzatura perché è vero che manca una partita in meno, è vero pure che abbiamo ancora belle partite da giocare e mi metto qui adesso per iscritto e ci metto una faccia che non molleremo ma neanche di mezzo millimetro fino alla fine poi alla fine vediamo quello che succederà però qualche errore in meno sicuramente dobbiamo farlo io per primo ripeto ci metto la faccia adesso se magari chiamiamola una buona sorte dai diciamo così ci assiste il risultato che va via lascia aperta qualche speranza? Assolutamente sì perché perché devono venire qui da noi perché è vero che sei punti non sono pochissimi però ripeto abbiamo scontro diretto qua da noi abbiamo vinto già l'andata e quindi caso di arrivare a quali punti chiaramente sto ipotizzando che è obbligatorio batterli o comunque arrivare allo scontro diretto nelle condizioni di poterli agganciare però non è assolutamente facile ripeto lo sappiamo ma la partita di stasera ci deve dare ancora più cattiveria per per affrontare le ultime cinque poi abbiamo ancora la finale di coppa da giocare mercoledì prossimo quindi dobbiamo assolutamente ricombattarci e e ci schiacciamo lì grazie a tutti grazie a tutti